Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua per continuare a leggere la seconda parte di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ricordate? La volta scorsa avevamo lasciato Alice alla rincorsa di Bianconiglio e vediamo ora cosa accade. Alice ora comincia a spazientirsi. Dove si sarà cacciato? Si chiede un po' seccata, ma proprio mentre è assorte in questi pensieri ecco comparire davanti a lei due strane creature. Non sembrano avere cattive intenzioni, al contrario hanno un'aria simpatica. Chissà se potranno aiutare la povera Alice a trovare Bianconiglio, ma i due non le danno retta e invece di risponderle si mettono a raccontare la storia della loro vita. Uno si chiama Pinco Panco e l'altro Panco Pinco. Non sembra vadano molto d'accordo, infatti si rimbeccano e si contraddicono. Vanno avanti per un po', senza rendersi conto che tutto questo ad Alice non interessa affatto. Tuttavia la bambina, per non sembrare scortese, finge di prestare loro attenzione. Alla fine i due affermano di avere un argomento su cui per una volta sono perfettamente d'accordo. Entrambi amano alla follia una storia assai crudele, quella del tricheco e del carpentiere, e senza tanti complimenti cominciano a raccontarla. Il tricheco della storia aveva un appetito insaziabile. Il suo amico carpentiere gli faceva da cuoco e proprio per questo era costantemente alla ricerca di piatti particolarmente sostanziosi per riempire l'enorme pancia del tricheco e placarne la fame. Un giorno i due decisero di fare un grande banchetto. «Invitiamo le ostriche a cena», disse il perfido tricheco. Le poverette accettarono l'invito volentieri, lungi dall'immaginare ciò che sarebbe loro accaduto una volta arrivate a destinazione. Il giorno stabilito le ostriche si presentarono al castello del tricheco, ma appena entrate si accorsero che la tavola era apparecchiata per una sola persona. Non dissero nulla per educazione, ringraziarono invece il carpentiere quando augurò loro buon appetito e attesero educatamente. Troppo tardi capirono quale posto era stato loro riservato in quel crudele banchetto. L'unico che si riempì la pancia fu proprio quell'enorme tricheco che non si fece scrupolo di mangiarle, ma al contrario si congratulò con il suo cuoco carpentiere per l'ottima cena. Questa terribile storia fa ridere a crepapelle i due balordi gemelli, mentre Alice non è affatto divertita, al contrario ha perso molto tempo e non ha avuto notizie di Bianconiglio. Perciò quando Pinco Panco e Pancopinco le propongono un altro dei loro racconti, la bambina perde la pazienza e con voce seccata risponde, ho ben altro da fare io, altro che ascoltare le vostre storie crudeli. Detto questo, volta le spalle ai due gemelli. Devo assolutamente trovare Bianconiglio, pensa Alice, dovunque gli sia in questo momento, e riprende la strada, decisa più che mai a soddisfare la sua curiosità. Ma fatti pochi passi, deve nuovamente fermarsi. Davanti a lei è comparsa all'improvviso una graziosa casetta. Oh, e di chi potrà mai essere? Pensa Alice stupita, mentre si avvicina con cautela. La bambina entra nel giardino guardandosi intorno, ammirata per tanta bellezza. Poi si avvicina alla porta chiedendo se c'è qualcuno, ma nessuno risponde. Sta per entrare quando un assordante squillo di tromba la fa sussultare. Si gira e vede Bianconiglio vestito da valletto di corte. Oh, presto Marianna, è tardi, le dice con voce concitata. Bianconiglio non sembra affatto sorpreso di trovarsi Alice. Davanti, al contrario, la incalza. Oh, presto Marianna ho fretta, ho dimenticato i guanti in camera mia al primo piano. Vai subito a prenderli. La bambina è frastornata, non riesce a rendersi conto della situazione e poi chissà perché l'ha chiamata Marianna, ma è troppo curiosa di guardarsi intorno per cercare di darsi una risposta e senza indugiare si lancia sulle scale impaziente di vedere la casa di Bianconiglio. Mai Alice avrebbe immaginato che un modesto coniglio potesse avere una camera così accogliente e arredata con tanto gusto. Ah, ma non può distrarsi, deve cercare i guanti di Bianconiglio. D'un tratto però la sua attenzione è attirata da una biscottiera su cui Fabella mostra di sé una scritta accattivante. prendine uno. Alice dimentica subito l'incarico affidatole al profumo di quei fragranti pasticcini e non sa resistere. E poi quella scritta è un invito al quale non può sottrarsi, perciò senza pensare alle eventuali conseguenze ne prende uno e comincia a mangiarlo. Oh, oh, ma che succede? La bambina non fa in tempo a sedersi che i suoi piedi finiscono in giardino, mentre la sua testa preme contro il tetto. Mio Dio, com'è diventata grande! Anche quei biscotti evidentemente erano magici, ma come al solito Alice non si è posta il problema prima di mangiarne uno. E così adesso si ritrova ad essere più grande della casa. Bianconiglio per giunta è fuori di sé e chiama a gran voce i vicini. Oh, eccellente esibizione! Esclama il dodo, credendo di assistere allo spettacolo di un circo. Alice invece non è affatto divertita e cerca in tutti i modi di liberarsi. La lucertola più pratica propone una soluzione per far uscire la bambina da quella posizione. basterà riempire la casa di fumo. In un attimo Alice sarà di nuovo libera e la casa svuotata della sua sgradita presenza. La proposta della lucertola sembra trovare numerosi consensi e infatti si procede secondo le istruzioni della lucertola. Dopo un po' la casa è letteralmente invasa dal fumo. Alice ormai è avvolta in uno a nuvola, densa e scura. Cerca finché può di tenere il respiro ma rischia di soffocare. Oh, sta per fare uno starnuto. I suoi occhi cominciano a lacrimare. Ancora tre quattro sbuffi di fumo e non riuscirà più a trattenersi. Accidenti! Altro che starnuto. Questa è stata addirittura l'esplosione di una bomba. Nonostante ciò la prigioniera non è ancora libera e la casa di Bianconiglio per giunta è distrutta. Alice stanca della spiacevole situazione e soprattutto della scomoda posizione in cui si trova dice tra sé. Devo trovare da sola una soluzione o rimarrò incastrata qui per sempre. Allora afferra Bianconiglio con la punta delle dita e gli chiede gentilmente. Mi raccogli una carota per favore? Una carota? Proteste il coniglio che malgrado il suo abbigliamento da valletto non apprezza troppo di essere trattato da servitore. E cosa te ne faresti? Continua subito dopo molto seccato. E perché no? Ribatte Alice. Se i biscotti mi fanno ingrandire forse le carote mi fanno rimpicciolire. Bianconiglio non è molto convinto della faccenda. Tuttavia dopo un ultimo tentennamento raccoglie una carota dal suo orto. Alice inizia a cominciare a rosicchiare la carota. Immediatamente avviene il cambiamento. Pur rimanendo nella stessa posizione Alice ha la sensazione di precipitare. Bambini! Com'è microscopica adesso! Per le sue gambe così piccine anche un gradino diventa una difficoltà insormontabile. Il dodo che è sempre convinto di assistere ad una spettacolare esibizione da circo applaude agli sforzi di Alice e la incoraggia ad ogni nuova tappa. E allora riuscirà la nostra formichina a terminare la sua impresa senza rompersi il naso. Lo scopriremo la prossima volta. Ciao a tutti e grazie!